Meno distanza con i cittadini, servizi più efficienti ed adeguati, più gestibili e controllabili. Saranno questi vantaggi secondo il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese dell'azienda consortile AgroSolidale che ha ottenuto il via libera durante il consiglio comunale di ieri sostituendo il piano di zona S1 che comprendeva 12 comuni e che ha erogato i servizi sociali nell'agro nocerino sarnese negli ultimi 15 anni. 12 presenti su 17 in consiglio comunale che ha approvato la nascita del consorzio all'unanimità. Sì, è un passo importante verso un nuovo welfare locale, quindi un sistema un po' più controllabile, più gestibile, più concentrato. Quattro comuni anziché 12, un bacino di 90.000 persone anziché 280.000, quindi penso sia un fatto importante. Stasera diciamo siamo gli ultimi due comuni che approviamo la convenzione e la bozza di statuto e atto costitutivo perché poi procediamo velocemente per approvare tutti gli atti aziendali, formare il consiglio di amministrazione, fare le altre procedure. Diciamo che per fine anno dobbiamo essere assolutamente operativi. Soprattutto noi crediamo, abbiamo creduto dall'inizio a questo progetto, per il semplice fatto che snellendo i comuni ci sta più possibilità di lavorare in simbiosi con gli altri tre comuni e soprattutto di accelerare per i servizi e alle persone che ne hanno bisogno.